Un'altra sfida, un nuovo obiettivo, convincere tutte le donne che nella vita hanno affrontato il cancro a salire in bici e pedalare per portare un messaggio di libertà e speranza in tutte le oncologie ospedaliere della Sardegna. Una gara di solidarietà da 750 km ideata e percorsa dalle biker dell'associazione sportiva Flamingo's Roads. Una spallata alla malattia, una pedalata che scaccia e ricordi più tristi per fare spazio ad una nuova consapevolezza. La sfida è iniziata domenica 26 maggio a Cagliari con la prima tappa del tracciato da 103 km studiato dall'associazione sportiva Mare Monti. Quindi il primo stop a Oristano e ancora prima al centro oncologico dell'ospedale di San Gavino Monreale. Ancora pedalata il giorno successivo sull'Oristano Alghero, 109 km fino al servizio di oncologia dell'ospedale civile di Via Don Minzoni che si occupa di accertamenti diagnostici, complessi, manovre invasive e trattamenti chemioterapici dei sintomi correlati alla malattia oncologica. Compagni di viaggio dei fenicoti di rosa sono il sorriso e l'energia di chi ha lottato e vinto la battaglia contro il cancro. Il programma continua con la tappa al Santissima Annunziata di Sassere ancora in sella fino al reparto di oncologia medica dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Poi tra retilini, discese e salite verso l'ospedale di Nuoro, quello di Lanosei e infine l'appuntamento ad una settimana dall'inizio della sfida previsto domenica prossima a Cagliari per la tappa finale con gli ultimi 15 km su lungomare Poetto con l'arrivo a Mono in Targius, proprio tra i fenicoti di rosa. Il messaggio è quello per cui non dobbiamo sopravvivere, non immaginiamoci come persone che sopravvivono al cancro, dobbiamo vivere.